ciao a tutti benvenuti nel mio canale oggi prepariamo la parmigiana di zucchine però in bianco ora vi elenco gli ingredienti occorrono le zucchine olio sale pangrattato formaggio e salumi uno quello che preferisce io userò la mortadella e il prosciutto ora passiamo ad affettare le nostre zucchine ho appena finito di affettare le nostre zucchine dovete farle così spesse altrimenti poi troppo spesse non cuoce bene poi nel tegame ho messo dell'olio e del pangrattato sistemate tutta la zucchina mettete un po di sale e ora passiamo al riempimento della nostra parmigiana io come primo strato ho messo un po di prosciutto e del formaggio grattugiato naturalmente voi potete alternare come volete potete mettere quello che avete in frigo scamozza formaggio filante stracciatelle mozzarella ognuno fa quello che gli sembra più giusto ora continuiamo ci vediamo dopo ho appena finito di fare la parmigiana all'ultimo ho messo un altro po di sale ho messo un po di formaggio un po di pangrattato e ora gli aggiungiamo un po di olio da sopra e adesso lo mettiamo sul gas a far bollire e cuoce prima e poi lo passiamo nel forno a far rifare solamente la la crosticina da sopra la parmigiana di zucchine in bianco è pronta vi ricordo di iscrivervi al mio canale cucina insieme al via ciao 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 ciao